...che ha costruito praticamente mezzo a quello site, che sono depositati a Campanella Pò e grazie all'oggetello Manzoni che chiaramente ha seguito la nostra attività. Extra Nuros come Flamia Ombria, che si sta andando là, perché noi andiamo a costruire la consulta dei Lombardi del mondo. E volevo ricordare alcune figure. L'allecchia di Maschi Migliore, che ha fondato il Circo Lomantolano di San Paolo, l'era di Ostiglia. Marta Carmini, che ha fondato il Circo Lomantolano di Buenos Aires. Bruno Ravagnani, che era di Sydney, che praticamente ha ricostruito tutta la storia della migrazione assieme a Calabrese, eccetera, eccetera. Poi abbiamo Pietro Schiru, che sa bene. Salto, che ha scoperto una Lomantolana che è assieme a Crescia della Ponte. E Salto Scandietti, porto una Lomantolana che è andata a Crescia della Ponte, in più. Dalla fine lui ci si sanno, che noi abbiamo costruito, grazie anche all'aiuto di Marco Gandini, la storia dell'immigrazione in Costa Rica. Ricordiamo di Costa Rica. Noi abbiamo avuto Alfio Piva, che è stato vicepresidente di Costa Rica, di San Paolo di Ostiglia e di San Benedetto. Spero l'avete ricordato tutti. Oltre a un amico Pietro Liberati, a cui volevo dedicare questa giornata, di cui avremo modo poi di ricordare tutta la sua opera. Grazie.